Da sabato la scuola italiana ha un nuovo ministro e in tanti si chiedono quali saranno le sue scelte politiche e le sue decisioni più immediate. Fare previsioni è molto difficile anche perché, al di là delle propensioni e delle idee personali di ciascun ministro, peserà molto nel nuovo governo la necessità di mantenere una linea unitaria che dovrà ovviamente essere garantita dal presidente Mario Draghi. Infatti se il presidente del Consiglio non riuscisse a dare un indirizzo unitario sarebbe a rischio la stessa tenuta del governo. Qualche ipotesi su cosa potrebbe accadere a Viale Trastevere possiamo formularla a partire dai documenti, libri, rapporti, interviste attribuibili a Patrizio Bianchi. Nel suo libro pubblicato pochi mesi fa il nuovo ministro esprime una visione piuttosto chiara della scuola. Intanto, secondo Bianchi, sarà necessario sostenere e anzi promuovere ancora di più l'autonomia delle istituzioni scolastiche che, a suo parere, non è stata attuata nel modo migliore. Un esempio può bastare per capire cosa ha in mente il neoministro. Le regioni, scrive Bianchi, hanno compiti precisi in materia di programmazione dell'offerta scolastica, ma non dispongono del personale e delle strutture necessarie per raggiungere questo scopo. Strutture che, al contrario, restano saldamente nelle mani del Ministero dell'Istruzione, attraverso i suoi uffici regionali e provinciali. Questa considerazione fa pensare al fatto che Bianchi potrebbe riprendere un percorso che si era avviato nei primi anni del nuovo millennio e che si era poi interrotto. Ci riferiamo cioè al cosiddetto masterplan su cui Stato e Regioni avevano quasi raggiunto un accordo che prevedeva il progressivo passaggio alle Regioni delle competenze e del personale degli uffici scolastici. Il fatto è che Patrizio Bianchi, non dimentichiamolo, è un sostenitore del principio di sussidiarietà e in questo potrebbe trovarsi in sintonia con altri due ministri come Maria Stella Gelmini, autonomie regionali, e Renato Brunetta, pubblica amministrazione. Anche se, per la verità, va detto che il ministro dell'istruzione non rinuncia mai a precisare che per lui l'autonomia deve essere assolutamente solidale e attuata all'interno di un preciso quadro costituzionale. Altro tema che certamente il ministro non trascurerà è quello della struttura del sistema scolastico. Sempre nel suo libro, per esempio, parla apertamente di scuola secondaria di secondo grado di quattro anni e di obbligo scolastico a diciassette anni. Insomma, ce n'è già a sufficienza per aprire confronti, forse anche scontri, con le organizzazioni sindacali e con una parte non minoritaria del mondo della scuola. Su tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati perché questo è il tema del giorno, di queste ore, e quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it